allora sono qua su google e voglio fare una ricerca sempre su questi tre siti che per me sono altamente sospetti su amazon della germania ok dunque faccio scrivo barbara meyer meyer ok vado in amazon ok seller profile ok amazon de andiamo qua ok vado qui vado sul suo storefront ok e qui adesso a 30.000 e vende solo libri vende solo libri prima vendeva di tutto adesso dopo niente e poi tutto un tratto adesso solo libri ok 30.000 poi caspita se io vado a cercare il computer cosa vedeva prima non vende più niente hp non vende msi niente ok ok dunque adesso vende solo libri ok adesso andiamo a cercare web ik tap web ik tap amazon web no k i capri tap questo un negozio effettivo ok che però è in turco poi anche una pagina facebook in russia ok amazon amazon amazon.co.uk dunque anche su amazon amazon però uk e amazon d vediamo se c'è eccolo qua profile andiamo a vedere andiamo a vedere cosa vende a comincia a vendere anche il computer vende di tutto dunque 90 solo però 95 risultati 95 mentre giorni cos'è uno tempo fa cioè dieci cinque ore fa ne vendeva 400 milano se non mi ricordo male vediamo che prezzo lo vende non è non è avere bollo a e adesso 400 mila prima ne vendeva adesso 400 mila adesso vende di tutto a caspita in un attimo andiamo vedere il prezzo di questo prima non era velvole però io non so il corso adesso di questo quanto costa perché non me ne intendo di questo andiamo a vedere l'hp perché adesso lui c'ha l'hp non ha più i libri c'è uno che venga no non ne vende però questo qua il negozio web it up vende solo libri ok se voi andate qua su web it up come avevo fatto vedere vende solo libri adesso si è messo a vendere di tutto prima poi c due secondi fa vendeva 9 adesso 4 c'è web it up vende solo libri no hp non vende però allora scusa cosa vende 400 mila andiamo avanti vediamo se trovo un computer che carrozza biciclette vende di tutto qua però se ha solo 6 adesso 95 perché perché prima 400 mila adesso 95 risultati vediamo qui se io buy option mi dice solo new v box pc adesso c'è solo new dunque non so perché lui ci sia che non lo vende io non me ne intendo però vabbè io però questo non me ne intendo frisci più contigo zar systems questi no li sono uno a 500 l'altra 1712 brand new avrei un po di dubbi su questo a questo punto perché la differenza di prezzo però questo è il mio questo 50 per cento ci potrebbe stare se vabbè niente comunque anche qui prima 495 andiamo a vedere poi un altro computer 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 non c'è da più vabbè dopo andremo a vedere la prossima volta gaming però adesso 95 prima ne aveva 400 mila ma solo questi e non sono presenti vabbè dopo per adesso solo questi ok 400 436 ah non c'è sia il buy option v box pc ok e questo cosa marzon d è il ok vabbè un terabyte di fare niente adesso andiamo a vedere l'altro un altro e ora in top vado giù vado giù vado lì che sono sospetti vado indietro vado indietro top top amazon.d andiamo a vedere 87 positivo vabbè come sono andiamo a vedere store font non ha niente e questo non ha niente a ma prima non era pieno di roma non lo so se vado a rivedere questo continua a girare continuano a girare vabbè mi sembra mi sembra incredibile cioè che questi qua continuano a girare da un uova all'altra questi cambiano vabbè vi saluto alla prossima arrivederci vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto